buongiorno a tutti allora iniziamo la giornata con un video chiamiamolo così divertente spiritoso eccetera perché sono gigione quindi mi piace anche gigioneggiare quindi gigioneggiamo un attimino perché volevo così parlare di un allenatore no che è stato un giocatore che quando esfaceva gol anche quelli più ridicoli anche quello del 4 a 0 della sua squadra lì che esultava come un pazzo neanche avesse fatto lui sia che segnava in finale di coppa dei campioni sia che segnava il gol del 5 a 0 della sua squadra esultava sempre come un pazzo e che in questo momento è a rischio sta facendo l'oronzo canà e oggi oggi è da oronzo canà caro pippo oggi ci ha fatto prendere 4 pappine sia gentile bel pomodorino in faccia pippo 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 cosa hai fatto pippo non vinci più pippo 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 andate in serie b pippo 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 quattro pappine oggi ha segnato pure braff braff e il bello che l'ho detto che segnava braff nell'elenco dei giocatori che avrebbero fatto gol oggi braff e che gol ha fatto braff dal fondo del campo gli ha dato la palla in area di rigore dal fondo sulla fascia si è bevuto il difensore poi tirato sul primo palo beffando il portiere quattro pappine in casa con un udinese che è già salva pippo sveglia che non mangi nel seno mi sa che non finisci neanche il campo di cacciano prima pippo pippo che cosa è successo pippo pippo che cosa è successo ha fatto un girone di andata che era un allibini ho detto benevento poi l'avevo già detto è il sede di pronomi fare sbagliare anche il pronostico detto benevento si salverà arriverà quattordicesimo quindicesimo sei quarturtimo pippo sei diciassettesimo a pari punti col torino che deve ancora giocare pippo sveglia pippo 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 quattro pere pippo 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 e ragazzi l'ho preso un po in giro ma c'è sinceramente se a parte gli scherzi se pippo e zaghi non non ci dà del gas qua c'è il rischio veramente che c'è la grande beffa del benevento in serie b perché se oggi è vero che cagliari roma diventa una partita molto importante per tutte e due perché dopo la vittoria del sassuolo adesso sassuolo ha tre punti dalla roma è la roma ha dieci punti dalla dalla zona champions ma il sassuolo ha tre punti dalla roma se lo se la ghermisce e la roma non vince l'europa league rischia di non andare neanche in europa l'anno però non solo non vai a un champions non va nemmeno in europa e a quel punto anche fonseca fonseca o che tu fai fonseca perché probabilmente fonseca potrebbe perché no andare a firenze al posto di di jacchini vedremo ragazzoli vedremo ho voluto fare questo video un gogliardico divertente eccetera per sdrammatizzare la giornata però se la parte gli scherzi il benevento lo vedo molto ma molto ma molto ma molto male non vince da da gennaio se non sbaglio quindi dopo queste mesi da queste quattro pappine mi è venuto veramente in mente oronzo canà quando i fratelloni gli dicevano venga qua oronzo lei domenica ci ha fatto prendere quattro pappine sia gentile gli spattasciavano un pomodoro in faccia poi magari a fine campionato lo prenderanno per un coglione un caso o nell'altro vedremo in quale dei due dei casi ma in base se si salva lo prendono in braccio ma avete preso per un coglione ma no per un eroe ma avete preso per un coglione ma no per un eroe ma avete però preso un coglione fa male qua sotto cazzo o sennò lo prendono veramente per un coglione e ci lascia un testicolo e lei ci ha fatto andare in serie b sac pic chiamano il dottor paul anestesia locale piccolo taglietto tuc tuc tac le palline comunque ragazzoli ci vediamo alla prossima spero di avervi fatto ghignare un attimino con pippo pippo cosa fai pippo 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 e ci vediamo naturalmente alla prossima vi ricordo lunedì sera non dovrebbe chiamarmi nessuno per fare dirette non so se stasera il gruppo del l'altro gruppo dell'inter mister g and company mi chiameranno per fare una diretta non li ho ancora sentiti quindi penso di no quindi mi vedrò comodamente la partita serale per il resto vi ricordo lunedì sera come sempre alle 21 e 30 22 spero di non essere in ritardo come al solito ma spero di iniziare tra le 21 e 30 alle 22 più 22 che 21 e 30 la direttona del gigione come sempre quello ormai è un impegno fisso che che mi sono preso finché non avrò impegni che me lo impediranno e niente mi sono dilungato un po troppo adesso vado a vedermi interverona speriamo in bene se no mi vedrete con le bottiglie perché alla fine della partita se non va come deve andare in basa anche a come è andata potrei usare le bottiglie oppure no vedremo vedremo spero di non usare le bottiglie spero di arrivare col sorrisone e poi vediamo cosa fanno le altre ciao